Ciao a tutti, sono sempre Matteo e sempre da Cambiago per la seconda edizione del Preview settimanale, 15 articoli che metteremo in pubblicazione da lunedì a venerdì prossimo e che vi presentiamo velocemente. Per qualsiasi informazione, sempre gli stessi recapiti, 351 690 4263 o assistenza clienti chioccioladimanoinmano.it. Partiamo con il primo articolo, che è questo bellissimo salottino in bambù, anni 70, produzione italiana, in buone condizioni, ideale direi per il vostro terrazzo, composto da quattro poltrone e un tavolino d'appoggio. Le misure sono delle poltrone 79 di altezza, 56 di larghezza e 72 di profondità, mentre il tavolino è alto 53 centimetri e ha un diametro di 56. Il prezzo è di 670 euro per tutto il set e passerei al secondo articolo. Ci troviamo ora vicino a questa graziosa figura femminile, ma ne parleremo la prossima volta. Andiamo a vedere invece questo portale con specchi italiano degli anni 50 molto importante. Le misure, le leggo perché sono un po', sono 274 centimetri d'altezza massima e 221 a questa altezza, 124 a larghezza massima e 72 questa larghezza, 4 centimetri di profondità e proponiamo questo pezzo a un prezzo di 1400 euro. Ci troviamo nel regno delle poltrone per presentarvi il nostro terzo articolo, questa poltrona barocchetto. Mi sposto così già dopo farvela vedere meglio. Allora, dicevo appunto, poltrona barocchetto della metà del XVIII secolo, provenienza italiana, nello specifico veneto, in noce. Le gambe anteriori sono mosse, così come la traversa ad H e la fodera, ecco un arazzino a mezzo punto, decorato con motivi floreali e scena galante. Le dimensioni sono 100 centimetri di altezza, 98 di larghezza e 69 di profondità. L'altezza della seduta è 50 centimetri. La proponiamo a un prezzo di 970 euro. Passiamo ora all'arte per il quarto e quinto articolo, aprendo la vetrina. Allora, il primo prodotto è un raro disegno di Bicelazzari, datato 1978, di pastelli su carta. Presente la firma e la data in basso a destra e l'opera è presentata in cornice. Le misure dell'opera sono 19x23 e il prezzo a cui la proponiamo è 1.400 euro. Il secondo oggetto invece è questa placca novecentista in bronzo con figura a basso rilievo. Come vedete rappresenta un uomo nudo con questa freccia dritta al bersaglio, che è un simbolismo tipico del fascismo. Quindi ci troviamo in Italia negli anni 30. La cornice è in legno coeva. Il prezzo è di 360 euro e le misure sono 28x28x2,5 di profondità. Passiamo al modernariato per il nostro sesto articolo e a questo solido mobile, credenza, anni 70-80. Vano top, con dei simpatici cassettini al suo interno, ante a battente e due cassetti centrali. Le misure sono 87,5 di altezza, 150 di larghezza e 80 di profondità. Presentiamo questo mobile a 960 euro. Il legno è impiallacciato noce e si può vedere la qualità della manifattura italiana. Vi mettete a casa un piccolo gioiello solamente con qualche ritocco. Vi chiederete come abbino alla mia sala quel bellissimo mobile che abbiamo visto con questo tavolo, che è il suo tavolo preso dalla stessa casa. Sempre un tavolo quindi anni 70-80, impiallacciato in noce, come dicevamo, di perfetto abbinamento con il mobile. Le sue misure sono 75 di altezza, 150 di larghezza e 80 di profondità. Siamo sempre nella fine degli anni 70-80 e il suo costo è di 450 euro. Per il nostro ottavo articolo passiamo alle sedute, sempre nel modernariato e a questa simpatica e leggera coppia di poltroncine anni 50-60 di manifattura italiana. Imbottitura in espanso, rivestimento in sky e legno di faggio. Vi ho portato il nostro campionario perché se come me ad esempio amate il lilla possiamo rifarle tranquillamente con questo bellissimo colore oppure con un altro a vostra scelta. Il loro prezzo è di 480 euro e le misure sono 75 di altezza, 60 di larghezza e 63 di profondità. L'altezza della seduta è 39,5. Passiamo in negozio per il nostro nono articolo e questa volta parliamo di illuminazione per questa meravigliosa lampada da soffitto di produzione italiana degli anni 60. Si presenta da sola molto bella ed elegante, alluminio smaltato, ottone e diffusore in vetro palino bianco, resa funzionante dai nostri laboratori. Presentiamo questa lampada a un prezzo di 340 euro e le sue dimensioni sono 115 centimetri di altezza e 31 di larghezza. Passiamo ora a due oggetti firmati. Il primo un accattivante obelisco Swarovski Hong Kong Tower in cristallo. Ci troviamo in Austria nel 1997, è l'edizione 315 e udite udite il prezzo è solamente di 250 euro. L'altro oggetto invece, eccolo qua, è questo romantico set toilette da viaggio Hermès Parigi, 1950-60 circa, Francia appunto, in pelle e tessuto. Il marchio della manifattura è sul bordo interno della valigetta e incusso anche sotto le bottigliette e sulla spazzola. Diciamo è quasi indispensabile per la vostra fuga d'amore a Parigi e lo proponiamo a un prezzo di 530 euro. Mi sono dimenticato di darvi tutte le dimensioni. Il nostro Swarovski è alto 31 centimetri e largo 5 centimetri, mentre la nostra valigetta è alta 8 centimetri, larga 30 centimetri e profonda 23. Ci troviamo sempre in negozio davanti a questa vetrina con diversi vassoi d'argento con sette di bicchieri. Vi faremo vedere questo sette di 6, qui in basso, in vetro molato, inciso e dorato, di diverse manifatture, forme e colori. Ideale per i vostri tè caldi o aperitivi un po' stravaganti a casa. Siamo nella fine del Novecento ed è una produzione europea. Il loro prezzo è 280 euro per tutto il set. Non vi do la misura perché finiremmo domani. Per qualsiasi cosa ovviamente contattateci. Dopo il vostro aperitivo dovremo pur mangiare qualcosa. Dove se non, con questo servizio da 8 persone, Manifattura Vegwood Cutani Crane. È un servizio di piatti composto da una zuppiera, una salsiera con piattino, 8 piatti grandi, 16 piatti piani e 16 piatti fondi, 3 piatti da portata, 8 piattini da pane e 8 coppe da macedonia. Insomma, ce ne avete per ogni gusto. Il prezzo è di 620 euro ed è un servizio secondo me veramente molto delizioso. Ho lasciato per ultimo l'oggetto più interessante, la nostra affettatrice Berkel. Rotterdam, ventesimo secolo. È una affettatrice super ricercata, infatti ne abbiamo appena avuta una, è stata super richiesta, ne è arrivata un'altra. Quindi se volete metterla nel vostro ristorante o come oggetto d'arredo nella vostra casa, affrettatevi a scriverci. Il prezzo è di 6800 euro. Le dimensioni, vado a leggerle, sono 144 di altezza, 94 di larghezza e 71 di profondità. Vi salutiamo ricordandovi che noi ci troviamo esattamente qui a Cambiago. I nostri riferimenti telefonici sono 351 690 4263 o via mail assistenzaclienti chioccioladimanimano.it. Scrivetemi per qualsiasi informazione sugli oggetti che avete appena visto o per altri che avete visto sul sito. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!